Con questa sera iniziamo la nostra lettura diretta del testo della Genesi. Vorrei dire innanzitutto una parola su questo titolo che è stato scelto, è una citazione presa dal capitolo terzo del libro della Genesi e usa, come spesso avviene nella letteratura biblica in maniera particolare in questi capitoli, usa un simbolo, l'ospirare della brezza serale, l'immagine in realtà definita in tutti i particolari secondo gli studiosi deve essere ricondotta al mondo dell'Oriente, come sempre, come punto di partenza, come punto di comprensione. Immaginiamo uno di quei grandi giardini che sono descritti di solito attorno ai palazzi, ai palazzi reali e in questo giardino entra verso la sera quando il calore del sole si è attenuato entra il grande signore, il visir, il quale fa il suo giro nell'interno del suo parco e durante questo momento, il momento più dolce, il momento più delicato, si affollano attorno a lui gli alti funzionari dignitari del palazzo, i quali lo intrattengono, possono essere musicisti, possono essere poeti, possono essere anche semplicemente dei consiglieri, i quali parlano con lui e comincia di solito quella specie, quella trama di dialogo che tante volte è al centro delle novelle delle Mille e una Notte. Ebbene, l'immagine ora viene ritrascritta, anche se evidentemente il mondo è forse un mondo molto più lontano di quello che noi possiamo adesso un po' ricostruire attraverso il contributo della letteratura araba. È forse il mondo dei grandi parchi, dei grandi giardini, pensiamo ai giardini pensili di Babilonia. Il poeta ama, lo scrittore ama molto, questo scrittore iavista, in questa pagina usare i simboli vegetali. Nell'interno di questo giardino egli immagina che questo grande signore, ormai decisamente quasi come se fosse il gran re, scende per dialogare con i suoi sudditi privilegiati. Il signore passa la sera, all'ospirare della brezza, ad incontrare l'uomo e la donna. Quindi lo sfondo che noi abbiamo, ho scelto questo sfondo anche se appartiene al capitolo terzo, perché questo sfondo è forse il più luminoso, il più caratteristico, è quello che esprime meglio l'atmosfera del capitolo 2 che ora noi leggeremo. Un'atmosfera di pace, un'atmosfera di serenità, proprio come alla brezza della sera, quando il sole allunga ormai le ombre, in quel momento, il momento del tramonto, l'uomo si incontra col suo Dio. Ma vedremo che se questo incontro tutte le altre sere era un incontro dolce, delizioso, quella sera, e sarà la sera che considereremo nel nostro prossimo incontro, sarà, creerà, vedrà un incontro drammatico, anzi uno scontro. Ora, su questo sfondo, su questo fondale sereno, comincia la narrazione. La narrazione di questo scrittore, ricordate quella specie di scena che io ho raffigurato l'ultima volta, lo scrittore giovane, lo scrittore antico, la tradizione sacerdotale, la tradizione javista. Qui abbiamo questa tradizione dell'epoca salomonica, del X secolo a.C., ed è per questo che noi la consideriamo in primo luogo. Questo autore, questa tradizione, si fissa davanti a questa immagine e comincia la sua riflessione. Ricordiamo le parole che abbiamo detto. Non siamo di fronte ad una cronaca, di un evento lontanissimo nel tempo, siamo di fronte ad una riflessione, siamo di fronte ad una meditazione di tipo sapienziale, potremmo dire quasi di tipo filosofico teologico, naturalmente costruita con quella strumentazione che il semita usa normalmente, la sua strumentazione sono i simboli, è il linguaggio della poesia, del linguaggio della teologia, che deve sempre ricorrere a queste immagini onnicomprensive, che noi poi con la nostra analisi dobbiamo lentamente spezzare. Ma prima di entrare in questa lettura io vorrei fare una digressione, ed è una digressione naturale, attesa, e la dovremo fare ancora un'altra volta, io penso, ogni tanto la dovremo riproporre questa digressione, perché molti hanno ancora l'impressione che questa pagina, che queste pagine siano sempre in realtà dei testi che hanno una specie di insegnamento scientifico sotteso, hanno un insegnamento storico sotteso, c'è sempre, cioè la tentazione di considerarle come delle pagine che parlano anche di scienza. Ora dobbiamo subito dire che questa pagina ha certamente un involucro scientifico, questa pagina ha certamente, è avvolta nell'interno, ha nell'interno un nucleo teologico, ma è avvolta attraverso un involucro che è della scienza del tempo, e la scienza del tempo noi sappiamo, questa cosmologia del tempo noi sappiamo che era fissista, era assolutamente inconcetibile qualsiasi teoria evoluzionista allora, questa scienza del tempo era certamente monogenista, monofiletica, era assolutamente inconcepibile qualsiasi ipotesi poligenica, era una scienza geocentrica, era una cosmologia geocentrica, che vedeva il mondo, tutto il grande mondo, il grande universo, centrato su questo asse che è il nostro piccolo pianeta, era una visione come si usa dire tecnicamente, eziologica, che cercava cioè di scoprire le cause segrete nell'interno del reale, dell'universo attraverso dei procedimenti che sono procedimenti più filosofici che non scientifici in senso stretto, per cui noi abbiamo una superficie che è scientifica, ci sono delle indicazioni che sono legate alla scienza di quel tempo, che poi è tutta la scienza dell'oriente, ma naturalmente questa scienza per noi del nostro secolo è una scienza caduca, è soltanto anche per lo stesso autore uno strumento per cercare di sviluppare questa sua riflessione che resta sempre una riflessione antropologica, una riflessione sull'uomo. diciamo in una maniera sintetica, questa pagina non è una pagina paleantropologica, la paleantropologia scopre poco dentro qui, al massimo scopre che cosa si pensava allora, non certo un insegnamento della Bibbia sulla scienza, che tra l'altro non avrebbe poi neppure un grande significato, abbiamo invece un insegnamento della Bibbia sull'uomo e questa è una pagina antropologica, e in questo senso allora direi, dobbiamo un po' abbandonare l'idea di usare questo testo tentando di metterlo d'accordo con tutte le attuali rilevazioni scientifiche che si compiono. Queste rilevazioni scientifiche come non possono dire molto sul mistero ultimo dell'uomo, anzi non dovrebbero pronunciarsi sul segreto ultimo dell'uomo dato che esse esaminano soltanto le strutture esteriori dell'uomo, dall'altra parte questi strumenti, queste proposte scientifiche non possono assolutamente essere comparate con un testo che ha un'altra provocazione da offrire, che ha un altro orientamento da dire. Per cui è un po' ridicolo l'uso che si fa qualche volta di queste pagine in chiave scientifiche, è quello che si dice, che si usa a dire tecnicamente, nei cui confronti io sono spesso polemico, il cosiddetto concordismo, cercare di spiegare le ere geologiche ricorrendo ai sei giorni della creazione, cercare per esempio di leggere e di sentire frasi di questo genere, le prendo perché forse è un libro che qualcuno di voi ha letto e magari è restato un po' affascinato anche se l'autore può forse creare qualche sospetto con i suoi 250 volumi di fantascienza, Isaac Asimov. In principio, sottotitolo, pubblicato da Mondadori nel 1981, il sottotitolo è Il libro della Genesi interpretato alla luce della scienza. Ed ecco come gli dice che devono essere ritrascritti i primi tre versetti della Genesi, quelli che noi in seguito considereremo. I primi tre versetti della Genesi si potrebbero parafrasare così. All'inizio, 15 miliardi di anni fa, l'universo consisteva in un nuovo cosmico, privo di struttura, che esplose in un'immensa esplosione di energia. E andando avanti di questo passo, egli arriva anche al banale, al banale voluto, che però anche rivela l'assoluta incomprensione del testo, come è assolutamente incompreso il testo di quei primi versetti, come dimostreremo. Oggi che la Terra è stata esplorata da cima a fondo, sappiamo che il paradiso terrestre non c'è. Ma chi non vuole rinunciare a questa ipotesi può sempre sostenere che è stato trasferito in cielo, o che magari esiste tuttora sulla Terra, ma grazie ai cherubini che lo difendono è invisibile occhi umani. Ecco la banalità totale, perché è naturale se uno deve tirare avanti il ragionamento fino alla fine su una pagina che non è, che non ha una proposta scientifica, nel senso delle scienze naturali, paleantropologica, ma antropologica, è chiaro che si giunge a questo livello. Invece ascoltiamo due testimonianze ben diverse. Sono testimonianze lontanissime tra di loro nel tempo e lontanissime anche dal nostro tempo, ma sono estremamente illuminanti. La prima la traggo dal De Genesi at Litteram di Sant'Agostino, libro secondo, capitolo nono, numero 20. Ecco il suo testo. Non si legge nell'Evangelo che il Signore avrebbe detto, vi mando il Paraclito che vi insegnerà come vanno il sole e la luna. Volevo formare dei cristiani, non dei matematici, dice Agostino. E giustamente. E l'altra invece è una testimonianza più curiosa, forse, che dobbiamo ricordare senza altro. È una lettera di uno dei primi, dei grandi padri della scienza moderna, Galileo. La lettera all'abate Benedettino Pisano Castelli. Io crederei che l'autorità delle sacre lettere avesse voluto solamente la mira a persuader agli uomini, avesse avuto solo lo scopo di persuadere gli uomini su quegli articoli e proposizioni che essendo necessarie per la salute loro, la salvezza loro, e superando ogni umano discorso, non potevano per altra scienza né per altro mezzo farcisi credibili che per bocca dell'istesso Spirito Santo. E questo è proprio un'analisi rigorosa, dobbiamo dire. Il tema sarà ribadito da Galileo in una lettera anche a Cristina di Lorena. Comunque è chiaro, dice, da un lato c'è quella via che è la via della scienza e dall'altro c'è una via, un canale di comunicazione che non può essere che quello dello Spirito. E quando noi entriamo nel mistero profondo dell'uomo, lì allora abbiamo bisogno dello Spirito. Ed è dallo Spirito perciò che dobbiamo farci guidare. Ed eccoci allora il testo, abbiamo davanti a noi il testo, siamo nel testo, entriamo. In questo testo possiamo, prima di entrare in quel messaggio antropologico, teologico, filosofico, sapienziale, come già abbiamo detto, prima di entrare in questo messaggio possiamo trovare qualche traccia di quel famoso involucro di cui vi ho detto, cioè di questa rappresentazione molto primitiva ma scientifica per allora dell'universo e dell'uomo? Sì, scegliamo subito un paragrafo. Ascoltatelo, è un paragrafo, un pezzo di bravura dell'autore. Possiamo dire, potrebbe essere comparato questo brano ad una, quasi ad una mappa, ad una carta geografica appesa. È tutto il mondo allora conosciuto. È una pianta idrografica perché, come è ovvio per l'orientale, ciò che specifica il mondo sono i fiumi, molto più dei monti, molto più dell'orografia, molto più delle città. Laddove c'è il fiume c'è la vita. E naturalmente il mondo è composto, come tutti sanno, da quattro punti cardinali. E allora i fiumi dovranno essere necessariamente quattro. E questi fiumi vengono centrati su quel luogo nel quale l'autore voglia mettere in scena la storia dell'uomo, la vicenda dell'uomo. Il testo lo ascoltiamo, adesso non lo commentiamo perché gli studiosi hanno molti problemi a decifrare esattamente tutti i dati di questo testo. Due fiumi li riconoscerete subito. Sono i fiumi popolari della Bibbia, quei fiumi che costituiscono tante volte lo sfondo in narrazioni oppure anche in oracoli dei profeti. Gli altri sono due fiumi misteriosi. Gli studiosi si sono divertiti a identificarli e hanno spaziato dal Nilo fino al Gange per riuscire a identificarli. Ma lasciamoli così nella mente dell'autore che guarda la sua carta geografica. Questa carta la troviamo dal versetto 10 in avanti del capitolo 2. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Fission. Esso scorre intorno a tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro e l'oro di quella terra è fine. Come vedete è una carta anche disegnata con dei particolari. Qui c'è anche la resina odorosa e la pietra donice. Il secondo fiume si chiama Gihon. Esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. Cush. Il terzo fiume si chiama Tigri ed ecco che entriamo nel noto. Esso scorre ad oriente di Ashur. Il quarto fiume è l'Eufrate che nella Bibbia si chiama il fiume per eccellenza. Come vedete l'autore ha descritto questa mappa del mondo, questa superficie della terra. Voi ben sapete che gli orientali immaginavano la terra come una piattaforma sostenuta da queste colonne e queste colonne si reggevano su questo grande abisso caotico. In pratica il mondo è un'architettura sospesa sul vuoto. Questo vuoto sogna sempre, la Bibbia lo dice con immagini molto bene in alcuni salmi, il vuoto sogna sempre di poter demolire ciò che è essere. Quindi abbiamo un mondo nel quale noi siamo sospesi. L'uomo vive quasi sempre a un punto di mezzo tra il nulla e l'essere. Ed è l'esperienza della fine, della morte, l'esperienza del limite e l'esperienza della limitazione del creato. Vista questo quadro d'insieme entriamo adesso più direttamente. Prima scena, primo quadro. Il testo comincia nel versetto quarto del capitolo secondo, nella seconda metà. La divisione in versetti è una cosa, come sapete tante volte, puramente strinseca. Però io penso che tutti voi, se avete seguito già la precedente conferenza, potreste persino sospettare, al di là del fatto che gli studiosi dicono che qui comincia alla tradizione javista, potreste sospettare che l'inizio è qui, perché qui abbiamo una delle forme introduttorie classiche delle antiche cosmologie, delle antiche cosmogonie per il mondo orientale, perché si creavano anche gli dei in quel momento. Voi ricorderete forse l'ultima volta, l'altra volta, quando io vi ho indicato un testo classico della cosmologia dell'antico oriente. Un testo delizioso per molti aspetti, costruito con estrema finezza poetica, un testo mitico, appartenente a quella mitologia che abbiamo cercato di riscattare l'ultima volta. Quel testo si intitolava in accadico, ricordate, Enuma Elish, che vuol dire letteralmente quando dall'alto. Le cosmologie cominciavano sempre con un quando, e questo quando comprendeva sempre la descrizione del nulla, la descrizione del vuoto, che non c'era ancora nulla, non c'era ancora l'esistenza. Questo quando ha dopo di sé l'azione, l'irruzione di Dio, il creatore. Ecco, adesso noi abbiamo la descrizione di questo quando e del poi che ne consegue. Ma per capire bene dove ci troviamo esattamente, in che atmosfera, in che tesi l'autore vuole presentarci, ora noi proveremo a dare prima di tutto uno sguardo d'insieme al capitolo. Questo capitolo è scandito su tre momenti, in tre momenti diversi. Abbiamo innanzitutto il primo momento, che è questo che tra poco leggeremo. E noi vedremo che in questo momento avviene un fatto, una congiunzione. È come se avvenisse l'incontro di due poli, poli lontani che piano piano si raggiungono. Sono poli lontanissimi in questo caso. Questo primo incontro è un incontro fondamentale. Tutte le altre volte avremo sempre un incontro. Primo incontro. Abbiamo Dio lontanissimo e abbiamo la polvere della terra. Tra questi due poli estremi scatta un respiro. Lo vedremo. Il respiro di Dio. E questo respiro fa unire in una specie di dialogo misterioso che si chiama la creazione, anche se la Bibbia non usa qui questo termine. Vediamo incontrarsi l'uomo e Dio. E allora, questo grande protagonista di questa pagina che si chiama, come già sapete, A-Adam, cioè l'uomo, è descritto con la sua prima grande relazione, col suo primo grande contatto. Il contatto con Dio. Poi abbiamo un secondo quadro. Ormai l'obiettivo si sposta sulla piattaforma della terra. E vediamo su questa piattaforma che l'uomo sta camminando. E camminando quasi in ciampa, incontra davanti a sé un'altra realtà. Ancora una volta l'uomo più alto, l'altra realtà più bassa. Ed egli, l'uomo e quest'altra realtà, si incontrano, entrano in contatto. Sono gli animali e l'uomo. L'uomo li domina entrando in una specie di dialogo strano. Il dialogo del nome, il nome degli animali. Poi abbiamo l'ultima scena. È la scena più gloriosa, quella descritta in una maniera più impressionante anche dal narratore. Il narratore ne resta affascinato. Ed è quando l'incontro avviene, ma non è più un incontro dall'alto verso il basso o viceversa. È un incontro che negdo, come dice la Bibbia. Cioè, gli occhi negli occhi. È un incontro pari. Ormai l'uomo e la donna sono insieme. E questo incontro, che è un incontro anche sessuale, è l'incontro completo, sereno, terminale, quello che porta finalmente la pace e la gioia nell'uomo. Ecco, allora noi ora, entrando in questo primo movimento, facciamo la scoperta del primo incontro, la scoperta della prima relazione. Se voi vedete, queste tre relazioni, questi tre momenti, sono la descrizione autobiografica della storia di ogni uomo. L'uomo comincia a scoprirsi come creatura nei confronti dell'infinito. L'uomo che scopre la materia. L'uomo il cosmo. L'uomo che scopre la sua donna, che scopre il suo simile. Tre grandi fondamentali relazioni che definiscono la vita. In poche parole, in pochi elementi. Tutte le altre relazioni che noi abbiamo, se voi le fate passare, oscillano o verso il primo, o verso il secondo, o verso il terzo rapporto. Cominciamo. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra. Nessuna erba campestre era spuntata. Poiché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Allora, quando, allora, il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. E l'uomo divenne un essere vivente. Vediamo gli elementi fondamentali. è una pagina non facile, assolutamente. Anche il testo ebraico in qualche punto sente proprio, risente dell'usura del tempo. Non è del tutto limpido. Ebbene, noi abbiamo prima di tutto una descrizione del nulla simbolica. È una descrizione molto curiosa. Voi vedete che l'orientale, come tutti sanno ormai, l'orientale non riuscirà mai a dire questa parola nulla. Nella Bibbia riusciamo a trovarla solo quando si comincia a scrivere in greco, nei cosiddetti libri deuterocanonici. È soltanto nel libro dei Maccabei che si riesce a formulare questa espressione, ukex onton, da ciò che non è, dalle cose che non sono. È un'espressione legata alla lingua greca, però. L'orientale non riesce a concepire il nulla se non attraverso delle immagini. E le due immagini scelte qui, vedremo quelle che sceglierà la tradizione sacerdotale. Queste due immagini sono molto curiose, molto significative. Ci fanno capire veramente una lettura del mondo. Voi avete sentito, il mondo non c'è, il nulla che cos'è? È quando non c'è l'acqua. Non c'era ancora l'acqua che faceva spuntare l'erba campestre e l'assenza dell'acqua fa sì che tutto il mondo sia come un deserto, quindi un nulla. La mancanza dell'acqua. E noi vedremo che paradossalmente l'altro autore presenterà invece l'acqua come il simbolo del nulla. È questa stranissima ambivalenza che ha nella Bibbia l'acqua. È quella stranissima ambivalenza che sperimenta anche, diciamo, la persona quando ha davanti a sé una sete sconfinata, una sete che lo brucia e che lo porta alla morte e ha davanti a sé l'immensa distesa del mare. Vedete che le acque sono contemporaneamente acque dolci e acque salate, sono acque tempestose e acque dolci, delicate. Ed è per questo che allora nella Bibbia si contrapporranno continuamente le acque caotiche, le acque della tempesta. A un certo momento si dirà non è importante che siano dolci. Le acque delle Eufrate perché rappresentano la superpotenza militare orientale. Ebbene, rappresentano la Siria, dice Isaia, esse verranno su di terra, aderanno al suolo tutto. Tu, Gerusalemme, resterai con l'acqua alla gola, solo il tuo cranio resterà fuori da questa inondazione immensa. Voi vedete che le acque, le potenze di questo mondo negative, i caos, è rappresentato attraverso una simbolica acquatica. E dall'altra parte abbiamo continuamente nella Bibbia, l'esaltazione dell'acqua dolce, delicata, sottile. E ancora Isaia nel capitolo ottavo, che ho citato poco fa, che dice, c'è, voi avete abbandonato, siete andati a cercare quest'acqua immensa e distruttrice e avete abbandonato l'acqua di Siloe che scorre leggera. L'acqua dolce, umile, semplice, segno della vita e dell'essere. E secondo, il nulla, con che cose è rappresentato anche? Non c'era ancora chi lavorasse il suolo e chi muovesse, irrigasse la terra. L'assenza dell'uomo. E questa, vedete, è una lettura molto primitiva, potremmo dire, ma estremamente suggestiva. Perché la Bibbia considera questo mondo, diversamente forse da come siamo abituati noi, considera questo mondo come un mondo triste se non ci fosse l'uomo. Noi la prossima volta diremo che questo mondo è drammatico perché c'è l'uomo. Ma la Bibbia dice anche che questo mondo, se non avesse un occhio che lo guardasse, se non avesse un uomo che lo trasformasse, sarebbe un mondo triste. Il canto dell'uomo come centro, con tutti i rischi che comporta questo canto. Ma la Bibbia lo ripete spesso. L'uomo è quasi come l'asse attorno a cui si dispiegano queste molte sillabe che sono ai suoi piedi. Tutte le cose di questo mondo sono come delle parole, tante parole che sono cadute per terra. Queste parole in sé aspettano quest'uomo che riesce a coniugarle tra di loro e a dare senso a queste parole disperse. Il mondo è insensato, il mondo è quasi un coacervo di tante cose. Diventa unità, diventa cosmo, cioè armonia, solo quando c'è l'uomo. Ed ecco allora che l'uomo è la prima creatura in assoluto. Come nella narrazione sacerdotale l'ultimo qui è il primo, evidentemente per questo primato interiore. E qui abbiamo un ritratto della relazione tra Dio e l'uomo. Un ritratto che merita una particolare attenzione perché è legato ad una immagine, un'immagine molto suggestiva, profonda anche direi. Questa immagine purtroppo è legata però al lessico. Dobbiamo precisare un vocabolo perché nella traduzione che abbiamo qui forse questa parola ci scivolerebbe via senza gran significato e qualche uno di voi, molti di voi già spontaneamente pensano che qui la Bibbia insegni l'esistenza dell'anima. In realtà per quanto si faccia passare la Bibbia, la Bibbia non ha una grande preoccupazione di descrivere questo elemento particolare spirituale che si contrappone, si coniuga con l'elemento materiale formando un'unità. È una visione questa greca, per la Bibbia esiste l'uomo in quanto tale e corpo e spirito non sono scindibili, esiste quello che è stato chiamato in finale l'essere vivente. E quindi questa parola, alito di vita, tradotto nella versione della CEI, alito di vita, questo soffio di Dio che entra nell'interno dell'uomo è il segno più alto dell'uomo stesso. E allora dobbiamo conoscerlo. Ma per conoscerlo dobbiamo prima di tutto vedere che l'uomo prende consistenza dalla terra, prende misteriosamente consistenza dalla polvere. E questo è anche un gioco di parole, d'altra parte. L'uomo come si chiama? Adam. E in ebraico la terra come si dice? Soprattutto questa terra di polvere si dice Adamà. Quindi l'uomo appare dalla polvere, appare dalla terra. E questo che cosa significa al di là del simbolo? Questa immagine del Dio costruttore che sta, il verbo ebraico dice proprio l'operazione del vasaio, che sta facendo, è il verbo usato per il vasaio. Quando Geremia va quel giorno lungo la strada principale dei vasai a vedere il lavoro che stanno facendo questi vasai, questi artigiani, e lo usa poi per parlare della grazia di Dio, usa lo stesso verbo. È un'immagine quindi plastica. Dio che sta come un costruttore, sta plasmando come un vasaio, un artigiano, crea questa creatura dalla terra, legata alla terra. Ecco io direi che qui la Bibbia ci insegna e sarà una tesi martellata continuamente contro tutte le tentazioni spiritualiste e angeliste, che l'uomo è corporeo, l'uomo è un parentato con la materia. Noi abbiamo un legame con la terra, la terra è veramente un po' la nostra madre. L'essere troppo angelici, essere dei guru, essere delle persone che cercano di dimenticare qualsiasi collegamento con la materia o con la terra, questa spiritualizzazione per cui esistono delle parti basse, delle parti inferiori nell'uomo, è un andar contro invece questa coscienza serena della nostra corporeta, della nostra materialità e quindi anche della nostra finitudine. Ma quest'uomo che è polvere, che è terra, riceve questa e in ebraico la parola, è la parola ebraica fondamentale, neshama. Ora è curioso un dato, la parola neshama nella Bibbia, in tutta la Bibbia, ricorre 24 volte e tutte le 24 volte la neshama è posseduta solo da due persone, da due personaggi, Dio e l'uomo. Sulla faccia della terra ci sono soltanto due realtà che possono possedere la neshama. E che cos'è questa neshama? Beh, da quanto si può vedere certamente collegata in qualche modo al respiro, all'alito di vita, certamente. Quindi la prima immagine è sempre quell'immagine che l'orientale guarda con stupore, quando uno respira il segno che è vivo. Nel mondo egiziano, nel geroglifico egiziano, per indicare il termine NFR, si usa sempre il disegno della trachea dei polmoni. Trachea dei polmoni è il segno del NFR. NFR vuol dire bello, buono, tutto quanto c'è di positivo. Abbiamo una descrizione di qualcosa che è anche visibile, sperimentabile. Però che cos'è in profondità questa cosa che ha anche Dio, il quale non respira, se non per simbolo, se non per antropomorfismo? Per capire che cosa sia la neshama, questa qualità che Dio ci ha donato e che ci permette di stare in contatto con Lui, dobbiamo leggere un passo del libro, dei proverbi. E si trova nel capitolo ventesimo al versetto ventisette. Io ve lo leggo, ve lo traduco nella maniera, non come c'è nella traduzione della CEI, nella traduzione più letterale possibile. Provate a seguirlo. Lampada di Yahweh, lampada del Signore, è la neshama dell'uomo. La neshama dell'uomo è la lampada del Signore. Essa scruta tutte le camere oscure del ventre. Che cosa vuol dire questa immagine così barocca? Ecco, immaginiamo, i reni per la Bibbia sono i segni, simbolo della passione, cuore della coscienza. L'interiorità, le viscere sono il simbolo della emozione, dell'istintualità quasi. E allora questa lampada entra e comincia a perforare la pelle dell'uomo, la carne e penetra sempre di più. Sempre di più s'avanza e sempre di più scava quasi nelle gallerie più recondite dell'io dell'uomo. Potremmo dire noi persino arriva fino alle frontiere dell'inconscio. E lì lo illumina. E allora che cosa sarà questa neshama? Che cos'è questo dono mirabile che Dio ci dà e che egli solo possiede? Che noi solo possediamo sulla faccia della terra mentre gli animali hanno soltanto lo spirito, ruach. Che cos'è? E allora potremmo usare proprio tre definizioni che sono state date, coincidono quasi tutte. Io ve le porto come esempio per indicare tre diversi modi di definirlo, proprio sulla base della moderna ricerca scientifica. La prima è la traduzione molto libera in realtà, però significativa, adottata dalla Bibbia tedesca, Bibbia tedesca delle chiese luterane tedesche. Ha usato il termine autocoscienza, l'equivalente tedesco di autocoscienza. Ed è significativo, sì. Prendiamo un testo invece che è usato soprattutto nel mondo inglese, ad opera di, preparato da un'equipe di studiosi, una versione della Bibbia che non è ufficiale ma è molto diffusa. La traduzione è il potere di introspezione. Abbiamo la traduzione qui menì della Bibbia, francese, a quale tenta di renderlo in più di un punto così, se connetto e se juger, conoscersi e giudicarsi. Voi vedete che abbiamo perciò attraverso questa neshama qualcosa che ci rende infinitamente superiori a questo mondo, a queste colossali realtà di questo mondo. Tu l'hai fatto veramente, come dice il Salmo 8, di poco inferiore a Elohim. Tu l'hai fatto poco di, proprio poco inferiore a Dio stesso. E passiamo al secondo quadro. Il secondo quadro noi lo incontriamo nei versetti 15 e 18-20. Saltiamo però alcuni versetti e poi diremo perché. 15 e 18-20. Leggiamolo subito. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. E il Signore Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Ed ecco il secondo momento. Voi vi sarete accorti nella lettura che c'è una specie di inclusione, c'è una cornice. L'uomo, Dio che vuole dare all'uomo un aiuto che gli è simile. E alla fine la malinconica constatazione. L'uomo non ha trovato un aiuto che gli sia simile. Prima però c'è quella riga. L'uomo, dopo essere stato creato, viene posto nel giardino del mondo. È il giardino mirabile di questa terra. Questo giardino è davanti all'uomo e l'uomo deve fare due azioni. Deve coltivarlo e custodirlo. Quanto è povera questa traduzione, coltivare e custodire. E quanto è difficile riuscire a tradurre in un'altra maniera. Perché l'autore, in maniera molto raffinata, usa due vocaboli che sono ambigui. Due verbi ebraici che sono ambigui. Il primo è il verbo avad e l'altro è il verbo shamar. Ora, questi due verbi, e voi adesso seguite, tenendo presente il primo movimento, è quello sottinteso. L'autore dice, l'uomo è qui su questo mondo, è entrato nel mondo per fare la grande, per vivere la grande avventura della scienza. Egli deve lavorare e custodire la terra, organizzare il mondo. È la grande avventura che è esplicitata poi, quando l'uomo, come l'essere sapiente per eccellenza, conosce il nome degli animali. Anzi, dà il nome lui agli animali. Gli animali non esistono quasi, se non c'è l'uomo che li specifica. Voi sapete che il nome, nel mondo semitico, è la realtà stessa. Se io ho in mano il nome di una cosa, è come se avessi in mano la cosa stessa. Se io do il nome all'animale, io questo animale lo ho ai miei piedi. E io sono su questo piedestallo, che è il piedestallo fatto di tutte le cose di questo mondo, che io conosco, riesco a penetrare. Il sapiente, la letteratura sapienziale già dell'Egitto, aveva a certe volte dei lunghissimi papiri in cui si mettevano soltanto i nomi delle cose, una registrazione. E il sapiente è quello che sa più nomi, perché egli conosce quindi le essenze di più cose. Detto questo però, i due vocaboli in ebraico, i due verbi in ebraico, sono usati anche per indicare l'accoglienza della legge di Dio, l'accoglienza dell'alleanza. Il verbo avad vuol dire servire a Dio. Il verbo shamar vuol dire osservare i comandamenti. E allora voi vedete che l'uomo è stato messo sulla terra non solo per lavorare, ma anche per pregare. L'uomo è stato messo sulla terra anche per cercare un mistero ulteriore, cercare l'alleanza col suo creatore. E quest'uomo vive contemporaneamente queste due esperienze. L'esperienza di Dio, l'esperienza del servire, dell'osservare e l'esperienza del lavorare e custodire. Ma ecco che giunto alla sera di questo secondo quadro, di questo secondo grande momento, questa seconda scena, l'uomo improvvisamente si scopre infelice. L'uomo non trovò, nonostante avesse davanti a sé tutto lo splendore dell'universo, tutte le cose mirabili di questo nostro orizzonte, non trovò una cosa che fosse sua pari. In ebraico abbiamo l'espressione que negdo, che si potrebbe tradurre bene con partner, ma che comunque vuole soprattutto indicare qualcosa che sta di fronte. Egli non ha qualcosa che gli sta di fronte, eppure ha degli animali che gli stanno sopra persino, ma a lui non bastano. E allora voi vedete che qui c'è una considerazione significativa sulla tristezza dell'uomo materiale, dell'uomo scientifico, dell'uomo anche intelligente, l'uomo che ha sensibilità, senso, l'uomo che ha conoscenza, intelligenza, l'uomo che è tecnico, lavoratore. Ha fatto tutte queste cose, ha nelle mani tutte le cose di questo mondo, eppure alla sera è molto triste. Egli non ha l'aiuto che gli sta di fronte, non ha altri due occhi simili ai suoi. Ed ecco allora che comincia la terza pagina. Tra l'altro è curioso questo fatto che Dio e il mondo non bastano all'uomo, anche Dio. Abbiamo visto che l'ha già incontrato, abbiamo sentito anche che lo può persino pregare. Eppure l'uomo non è del tutto completo fino a quando non ha fatto anche quest'ultima esperienza. Un uomo solo religioso e un uomo solo tecnico non è ancora completo. Ci vuole qualcos'altro. E questo terzo elemento è descritto nella parte più bella, più dolce anche di questo grande canto dell'uomo. Noi la ascoltiamo anche se voi già la conoscete. È uno dei testi che tra l'altro io mi auguro per i giovani che sono qua, che venga scelto per il loro matrimonio quando si sposeranno. E io spero che molti di voi l'abbiano sentito nel loro matrimonio, perché è nel lezionario ed era nel lezionario, nel lezionario del matrimonio, nei testi che si leggono per la celebrazione matrimoniale. E se ricordate quanto abbiamo detto a proposito di questo protagonista, che è quest'uomo in cui tutti ci specchiamo, possiamo dire che veramente questo è il primo canto d'amore dell'umanità, proprio perché sarà anche l'ultimo. Noi non sappiamo come finirà il mondo. Ma possiamo veramente immaginare che forse anche quando ci sarà quell'ultimo momento, supponiamo anche quel momento drammatico di una catastrofe, anche pochi minuti prima forse ci saranno due persone che si stringeranno la mano, due persone innamorate. E in questo senso, anche se non avranno più il tempo di dire una parola, quel gesto che essi faranno è ancora lo stesso gesto che ha fatto il primo uomo con la sua donna, quel gesto che continuamente si ripete in ogni istante sulla faccia della terra. Ed ecco allora la narrazione. Allora il Signore Dio, dal versetto 21 in avanti, fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse. Ed ecco questo grande eterno cantico d'amore. Questa volta essa in ebraico è poesia questa. E per quel noto principio che la poesia ebraica è solo retta dalla tensione, non ci sono come per noi delle leggi molto rigorose, dimetrica. Ci sono soprattutto delle leggi musicali. Per cui una persona quando è veramente carica di passione o piange se è attraversata dal dolore oppure canta se è attraversata dalla gioia o canta comunque. E difatti il tenore del testo cresce a questo punto e diventa poesia. Fino adesso è prosa, rigorosa. Qui invece entra il parallelismo, quel parallelismo essenziale dell'orientale, della poesia orientale. Questa volta essa è carne dalla mia carne, osso dalle mie ossa. la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. E qui dovremo parlare di questa versione. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Tra parentesi soltanto, per quelli che tra di voi forse ancora non sono del tutto convinti che qui protagonista non è il primo uomo, ma è l'uomo di tutti i tempi, una specie di controprova che li dovrebbe mettere in sospetto è proprio questa frase, la frase che abbiamo letto poco fa. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e Adam, sempre a Adam, abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Evidentemente l'autore ha in mente questo ciclo continuo degli uomini, padri e figli che continuamente vivono l'esperienza d'amore. Cominciamo, l'immagine usata è quella dell'architetto o dello scultore. Notate bene una cosa, su questa costola quante banalità e anche quante ironie inutili è stata versata nella storia. Soprattutto, dobbiamo anche dire, è stata uno dei cavalli di battaglia dell'antifemminismo, proprio perché sempre si è collegata questa specie di dipendenza, dipendenza uomo-donna. Ora tutto il testo, soprattutto il contesto, ha invece lo scopo ininterrotto di dimostrare che sono königdò, che sono tutte e due sullo stesso fronte, sono entrambi veramente pari. E allora perché si usa questa immagine? Ci sono delle ragioni filologiche, che qui non dobbiamo spiegare perché ci dovrebbero portare verso persino le letterature dell'Antico Oriente e comparazioni, dovremmo fare comparazioni col mondo anche della letteratura cadica e così via. Per ora noi accontentiamoci invece di una rilevazione simbolica molto curiosa che ci è data da un testo, di una letteratura sorella della letteratura ebraica, la letteratura cananea, ugaritica, di questa città dell'attuale Siria, dove sono state scoperte molte tavolette e queste tavolette contengono una lingua molto vicina all'ebraico e una mentalità molto vicina a quei cananei che abitavano gli indigeni della Palestina. Ora che cosa si dice in questa tavoletta? Si dice che quando il Dio creatore volle creare la donna, fece la stessa, e la donna è l'uomo, fece la stessa cosa che fa lo scultore quando estrae dalla roccia la sua statua. La statua è una realtà unica, nuova, ma in realtà è sempre roccia e l'uomo e la donna sono tra di loro in parallelo come la roccia e la statua. Entrambe, la donna e la statua e l'uomo e la roccia, entrambe, parte, entrambi partecipano della pietra. Ecco questa descrizione, entrambi sono parte della pietra, ci fa capire qual è l'idea che l'autore concepisce. L'uomo è carne. Nel linguaggio della Bibbia carne è l'essere umano anche nella sua fragilità. Carne e ossa. Carne, fragilità, debolezza. Ossa, la struttura ossea, segno anche di consistenza. Noi siamo questo misterioso impasto di resistenza e di debolezza. Siamo sì veramente dei microbi nell'universo, ma abbiamo anche una nostra misteriosa consistenza. Ecco questa carne e queste ossa passano dall'uno all'altro. La costola è quasi il ponte di comunicazione e tra i due avviene una profonda connessione. Tra i due c'è un profondo collegamento. Essi hanno la stessa materia, hanno lo stesso tessuto, sono fatti dello stesso tessuto. E questa presentazione è messa nella cornice di un sogno, di un sonno. Non dobbiamo pensare che questo sia un'indicazione banale. È un'indicazione piena di significato. Nella Bibbia pensate tutti quei sogni, sogni che ci sono, che comportano sempre una rivelazione. L'uomo nell'interno di questo sogno, sonno, scopre la grande rivelazione della sua pienezza. Scopre finalmente risvegliandosi qual era quell'aiuto simile di cui aveva bisogno. Ed ecco là di fronte. E allora egli lo chiama. Lo chiama col nome di carne e di ossa. Dice tu sei veramente la mia carne, tu sei veramente il mio osso. Notando bene che questa descrizione è proprio la scoperta stupita, se abbiamo compreso che carne e ossa sono la descrizione dell'esistenza, dell'esistere dell'uomo, e la scoperta che è possibile che sulla faccia della terra esista qualcosa di simile all'uomo. Che esista veramente quell'aiuto tanto atteso. E allora alla fine l'uomo ha, e questa è veramente la controprova della celebrazione, nonostante l'antifemminismo che affiorerà ripetutamente nella cultura della Bibbia, figlia del suo tempo, è anche la prova di un altissimo messaggio, un'altissima celebrazione della grandezza dell'uomo e della donna. Questo uomo deve trovare un nome a questa sua compagna. Sarà solo dopo che noi incontreremo quell'altro nome che è diventato famoso, ma tra l'altro non è neppure della tradizione javista, è probabilmente un'inserzione di un'altra tradizione, indipendente. Solo dopo si chiamerà Eva. Ora come si chiama la donna? Ma è naturale. Io mi chiamo Ish, come uomo. Il femminile in ebraico si fa aggiungendo la desinenza A. E' per questo che ho detto la traduzione non vuol dire nulla. Questo uomo risvegliatosi dalla grande rivelazione e trovato l'aiuto che gli è simile dice, io sono Ish e tu finalmente che sei la mia donna ti chiamerai Isha. Ish e Isha, il maschile e il femminile dello stesso nome. L'uomo e la donna sono sempre la stessa realtà, l'una al maschile e l'altra al femminile. E anzi, perché la cosa fosse ancora più comprensibile, si usa un'altra immagine. E i due saranno una carne sola. L'uomo si unirà alla sua donna, Ish e Isha, due principi. Si uniscono, due persone necessarie l'un l'altro, due pari, due occhi che si incontrano, due davanti l'uno all'altro che si incontrano e celebrano l'amore. Perché questa espressione, saranno una carne sola, è un'espressione sulla quale gli studiori si sono accaniti per vedere qual è il significato. E qui proprio dobbiamo presentare questo significato proprio con la semplicità con cui lo presenta l'uomo della Bibbia non timoroso del suo corpo. Egli guarda i due che si uniscono. Sono una carne sola perché essi sono uniti nell'atto sessuale. E l'atto sessuale, quando nasce veramente dall'amore, è il congiungimento totale dei due esseri. I due esseri ormai hanno trasfuso in sé tutto il loro dolore, tutte le loro gioie, tutti i loro pensieri e in quel momento anche il loro corpo. Ogni realtà ormai non appartiene più l'uno all'altro. Ma contemporaneamente l'autore evidentemente risale a quel prima, quando essi si sono scoperti come necessari umanamente. In pratica possiamo dire che in questa terza parte del capitolo secondo della Genesi abbiamo la grande vittoria sulla malattia ultima che ci portiamo dentro. La donna rappresenta tutto il prossimo, tutti i simili. E qual è quella malattia che ci portiamo dentro? È la malattia della solitudine. È la malattia dell'insoddisfazione dell'uomo. L'uomo che non ha l'amore e ha tutti gli animali di questo mondo, ha tutte le cose di questo mondo, ha lavorato dalla mattina alla sera, non ha l'aiuto che gli è simile. Ed egli se è veramente uomo, se non diventa bestia, è necessariamente triste. È solo quando ha incontrato l'altro uomo, l'altra persona, quando ha un dialogo che l'uomo finisce finalmente la sua tragedia, la grande malattia che è la malattia della solitudine come dice il libro dei proverbi, guai a quell'uomo che è solo. L'uomo coeleta anche che dice fortunato, quello che ha un amico, perché quando sta per cadere almeno uno lo può sostenere. E noi sappiamo che questa grande maledizione c'è tutte le volte che l'uomo è solo, terribilmente solo, in una prigione totale di solitudine. Qui si celebra loro in secondo luogo anche la vittoria. Sono una carne sola perché ormai hanno nell'interno questo profondo e misterioso dialogo. E da ultimo uno studioso tedesco famoso dell'Antico Testamento, Gerald Von Rad, ha sostenuto nel suo commento alla Genesi, ha sostenuto questa ipotesi che non è forse del tutto da accantonare. Chi sarà questa una carne sola? Ed egli ha risposto, è il bambino che nasce da loro. Perché se voi vedete essi si sono incontrati nell'amore. E quel bambino che nasce, quella nuova creatura che continuerà la storia dell'umanità non è più né solo dell'uno né solo dell'altro. È ormai una nuova carne, una carne sola che partecipa di entrambi, che si riflette, in cui si riflettono i volti dei genitori. E allora la finale di questa pagina, come vedete, è una finale piena di gioia, piena di pace. L'uomo si è realizzato. E noi adesso ci avviamo alla conclusione con due considerazioni terminali. La prima considerazione. Noi abbiamo visto l'uomo nella pienezza della sua felicità. L'uomo che si realizza. L'uomo che noi dobbiamo tenere come utopia davanti ai nostri occhi, come progetto davanti ai nostri occhi. Questo uomo quali caratteristiche deve avere? Deve essere un uomo che scopre l'infinito. Che non perde questo grande dono che noi abbiamo che è il dono dell'autocoscienza. Se noi perdiamo la coscienza siamo ormai veramente non più uomini. Questo legame con l'infinito, questa capacità di passare al di là questo terzo occhio che non è solo l'occhio sensitivo. Secondo, l'uomo è un uomo lavoratore anche. È un uomo che deve poter trasformare la materia. È un uomo che deve potersi realizzare nelle cose di questo mondo. È un uomo che entra in contatto col mondo. È un uomo che deve vivere la sua esperienza di intelligenza. La sua esperienza manuale anche. Che deve realizzarsi anche fisicamente. Quindi tutte le volte che l'uomo è povero, tutte le volte che l'uomo è bloccato, non è ancora l'uomo che Dio ha sognato, che Dio desidera. Questo grande progetto ci ha presentato l'uomo come Dio lo sogna. E terzo e ultimo, l'uomo però per essere veramente completo deve avere un amore. Se non ha l'amore l'uomo è finito. Anche paradossalmente se ha il suo Dio, anche se ha tutte le cose di questo mondo, egli resta irrimediabilmente triste e sconsolato, cioè un uomo imperfetto. La seconda considerazione. Per la prossima volta noi avremo proprio al centro di questo nostro incontro, del prossimo incontro, avremo quel grande albero che ora io ho ritagliato dalla narrazione. Lo metteremo proprio anche dal manifesto, lo faremo entrare, questo simbolo nell'interno della nostra riflessione, nell'interno della nostra lettura. Per ora cominciamo a scoprire questo albero. In realtà noi ne scopriamo due di alberi. Alberi strani, alberi che hanno dei nomi che non sono registrati dai botanici, perché sono alberi, tra virgolette diremmo, sono alberi teologici, sono dei grandi simboli vegetali che rappresentano, come tante volte ha amato la Bibbia, siamo sempre nel mondo dei simboli elementari, il verde, la vita, ha voluto rappresentare, attraverso questi simboli tante volte la Bibbia ha voluto rappresentare tutto ciò che si ha di grande. Il giusto è un albero piantato lungo un ruscello. Ecco, noi leggiamo ora i versetti 8, 9 e 16, 17. Questi versetti teniamoli per la prossima volta come sfondo, saranno il nostro punto di partenza. Attorno ad uno di questi alberi si gioca la vita dell'uomo, per cui questo albero è qualcosa di più di un qualsiasi albero. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Edena, oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Ecco che è apparso questo albero, sono due realtà. Gli altri sono alberi solo verdeggianti, che servono a far riposare la vista e servono a dare i frutti. Uno è l'albero della vita, un albero mitologico antichissimo. Le antichissime tradizioni, noi ricorderemo la prossima volta l'epopea di Gilgamesh, parlano di questo albero della vita. Ma l'albero della Bibbia, quello che c'è solo nella Bibbia è quello che porta a questo nome, questo nome decisivo, albero della conoscenza del bene e del male. Attorno a questo albero comincia a snodarsi una parola, una parola terribile, una parola implacabile, a prima vista terrificante, la parola del giudizio. Nei versetti 18-20 noi sentiamo, nei versetti 16-17 sentiamo, il Dio chiede questo comando all'uomo, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. E allora in questa armonia, l'armonia del mondo, appare questo segno drammatico. Dato che i nostri incontri sono anche incontri un po' di dialogo, io devo ringraziare una persona che mi ha mandato un libretto di un autore che io non conoscevo, io conoscevo l'autore ma quest'opera non la conoscevo, uno scrittore francese che si chiama Pierre Jean Jouve e l'opera è Il paradiso perduto, un poeta francese nato nel secolo scorso nel 1887 e questo poeta fa una meditazione poetica con elementi anche che sono extra biblici, magari anche discutibili, fa una meditazione su queste pagine e allora io devo dire che è sempre piacevole e sempre soddisfacente per l'uomo riuscire ad ascoltare anche questi testi attraverso la voce di chi sa leggere in profondità. E allora io ho scelto per finire questo nostro incontro e anche per avere sempre quell'eco di lettori che sono più grandi di noi, lettori che sanno perforare attraverso strade, magari incomplete, però sanno scoprire anche qualche angolo recondito, ascoltiamo soltanto alcune righe insieme di questo poema, righe che parlano di questo misterioso protagonista tra poco, terribile protagonista, l'albero della conoscenza. Nel mezzo ma lontano, inaccessibile all'uomo, un gran concerto di bracci ed ombra nel vento. Immaginiamo un po' anche quel quadro che abbiamo presentato, un grosso globo stupendo o un Eden diverso, quasi come fosse lui, un piccolo Eden, un piccolo giardino, pieno di voli e di verde. Certo, il più vasto di tutti gli alberi, chiamato l'albero della conoscenza del bene e del male. Solitario, sotto una faccia scura, sotto i suoi frutti non toccati, d'un verde rutilante, d'un rosso nerboruto, l'albero è proprio bello per chi vi accede dopo le sabbie dell'oblio, con tanti brusii spenti che inerpicando si arrivano all'orecchio, quando si fa la posta oltrepassando gli ordini, oltrepassando gli ordini. Ed ecco che di là, di là di quel globo, dice cose terribili Elohim.